Signore e signori non sto scherzando è tutto vero abbiamo la possibilità di vedere i primi gameplay di MotoGP24 Prima di cominciare col video però voglio ringraziare FabiGamer che mi ha scritto su Instagram segnalandomi l'esistenza dei video che sto per farvi vedere Sono video ufficiali direttamente dai account appunto ufficiali della Malestone ma che quasi nessuno ha notato Ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video quest'oggi appunto gameplay di MotoGP24 Prima di andare subito sul profilo TikTok ufficiale di Malestone che io non seguo in quanto non uso quasi mai TikTok E quindi appunto non avevo la più palida neanche che esistesse vi invito a iscrivervi al canale per supportarmi per darmi una gran mano E soprattutto perché MotoGP24 è sempre più vicino e tutti i video che andremo a fare su questo gioco sono di conseguenza sempre più vicini Quindi mi raccomando iscrivetevi per non perdervene nemmeno uno Ed eccoci qua siamo qui su TikTok appunto che è un social dove io non vado quasi mai sul profilo ufficiale della Malestone Perché come si può vedere anche proprio da questa playlist qua abbiamo ben 5 video dedicati a MotoGP24 E se questo video qua è semplicemente il trailer questi 4 mostrano anche dei nuovi elementi delle nuove impostazioni delle nuove grafiche del gioco Quindi li andiamo subito a guardare tutti partiamo da questo qua perché magari mi converrebbe abbassare un pochino il volume effettivamente eccolo qua Perché come potete vedere stiamo assistendo effettivamente adesso magari se non ci fosse il canno sarebbe anche meglio Ad un gameplay di MotoGP24 a tutti gli effetti da qua si vede molto poco certo Ma già da qui si vede tanto di più perché signore e signori questo è MotoGP24 Questo è Mark Marquez sulla KTM ufficiale E tra l'altro vedo qui a destra che tanta gente parla di salti di categoria E Malestone che risponde con tante nuove feature in MotoGP24 E addirittura invita a mantenersi sempre aggiornati nel sito ufficiale Per sapere se questa feature esisterà anche per le categorie inferiori Quindi signore e signori abbiamo ampie possibilità che ci sia perché altrimenti avrebbero dato forse altre risposte Non lo so non lo so ma guardando il video vediamo Mark Marquez in KTM ufficiale E questa non è una mod ma appunto è proprio MotoGP24 Ma andando avanti vediamo anche altri piloti perché abbiamo Quartararo in Onda L'Onda Repsol la nuova Onda Repsol E riusciamo anche proprio a vedere delle parti di gameplay In quanto questi sono clip di MotoGP24 assolutamente Abbiamo Martin in Gresini che non c'entra assolutamente niente Non è una mossa nemmeno esageratamente fattibile Ma signore e signori c'è punto e basta E quindi ancora una volta abbiamo la conferma appunto Dell'anche imprevedibilità che abbiamo con il Riders Market Ma andando ancora avanti abbiamo queste Che sono delle clip dedicate al Gran Premio di Portimao di puro gameplay Quindi come potete vedere abbiamo qua Jorge Martin che è anche il vincitore della gara Abbiamo Enea Bastianini che appunto destreggia Si destreggia nelle curve del circuito portoghese Quindi possiamo anche analizzare magari qualcosina della frenata E poi abbiamo Pedro Acosta Ho detto qualcosina della frenata Adesso mando un attimino indietro non in avanti Perché qui ad esempio abbiamo curva 1 E possiamo quindi dare una minima occhiata Adesso appena torna a com'è un pochino la frenata Che sembra parzialmente simile Ma contemporaneamente non del tutto simile a MotoGP23 Sembra un film più fluida Non so perché mi dà questa sensazione E comunque appunto andando avanti abbiamo anche qua Pedro Acosta Con quindi tutte le livree nuove, aggiornate eccetera E in generale appunto con Pedro Acosta che gira effettivamente una pista di MotoGP Qui nei commenti dicono che il gioco sia una mod diciamo di MotoGP23 Con le livree del 24 Ma io dico di no Perché questo video Mostra apertamente un menu di MotoGP24 Con la prima differenza che è la tuta Ixon E quindi ci abbiamo preso Ci saranno nuove tute Probabilmente nuovi guanti E anche nuovi caschi Perché questo è il casco Alpine Star Disponibili su MotoGP24 Quindi finalmente hanno aggiunto qualcosina di nuovo Ma soprattutto in questo video abbiamo una spiegazione generale Su quella che è la nuova funzione del MotoGP Stewards Perché adesso come possiamo vedere andando in avanti appena partirà il video Abbiamo prima di tutto un nuovo layout qui E un nuovo layout qui Si vedono tagliati ma si vedono Abbiamo quindi una nuova visione della bandiera gialla Abbiamo una nuova visione del diciamo cruscotto Con le temperature delle gomme Le velocità, le marce eccetera 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 Ma appunto abbiamo proprio delle porzioni di gameplay Con la nuova tuta Ixon eccetera 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 L'ho detto un'altra volta E poi ci viene mostrato anche come funziona un pochino questo MotoGP Stewards Con lui che taglia di tutto e di più E viene poi penalizzato anche per un'entrata irregolare nei pit E signore e signori non è finita qua Perché come potete vedere in questo altro video Abbiamo nuove grafiche per gli assetti Abbiamo nuove grafiche in generale per quanto riguarda la griglia Diciamo la griglia ecco per gara Quindi le posizioni di partenza Le condizioni meteo eccetera 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 Abbiamo in particolare una persona che appunto sta facendo l'assetto Andando quindi a cambiare tutti i vari elementi In una grafica completamente differente Rispetto alle precedenti E poi un gameplay puro di MotoGP 24 Quindi questo inizia a essere proprio il primo gameplay E' ancora troppo presto Ovviamente Per decretare se vi siano grandi differenze o no Perché a vederlo da qua non sembra nemmeno esageratamente diverso Ma non si può utilizzare TikTok come una fonte al 100% attentibile Perché i video non rendono fondamentalmente Potremo farci delle idee decisamente migliori Nel momento in cui riceveremo dei video su MotoGP 24 Fatti su YouTube Quindi proprio full screen Quindi sicuramente con appunto Una maggiore capacità di comprendere al meglio Quelle che sono le effettive modifiche Ma qui intanto possiamo vedere tante cose Perché appunto abbiamo tutte queste nuove grafiche Abbiamo il nuovo modo di vedere Le... Abbiamo le nuove tute Ma mi sono bloccato perché ho letto qui Questa persona che ha taggato nuove tute per il periodo Oltre al PSR denese Sbinda57 Anche il nuovo casco alpinestare Il problema è che Sbinda57 è un mio account vecchio Non è quello che ho adesso Quindi non ho visto il tag Porca miseria Me l'avevate già detto ragazzi Scusatemi Oddio Non... Io ragazzi non uso quasi mai TikTok Però il mio profilo attuale si chiama Sbindagon Al posto della Instagram Qua sotto in descrizione se volete seguitemi E qualcuno mi aveva taggato E a parte che mi fa un botto piacere perché L'idea di una persona Che... Pensa a me Mi fa veramente... Cioè mi fa un botto piacere Infatti Alex ti chiedo scusa per non averti risposto Adesso ti vado a rispondere subito con l'account attuale Per la finire di registrare Quindi ti chiedo scusa veramente E ti ringrazio per la menzione Quindi sì abbiamo appunto la visione anche di una nuova tuta Ixon E probabilmente ce ne potrebbero essere anche delle altre Io speravo il Revit in Magna Ma vedremo Ce ne sono talmente tante possibili Magari nuovi caschi oltre a quello alpinestare Potremmo avere Just One qualcos'altro E in generale abbiamo già un primo assaggio di MotoGP 24 Sia dal punto di vista grafico e fisico Sia dal punto di vista appunto di tutte le varie funzioni Questo non è MotoGP 24 E quindi che dire ragazzi Io sono gasato a schifo Ringrazio tutti voi Che mi avete appunto Informato di questi video che c'erano Io purtroppo me ne sono accorto tardi E infatti la tag non mi è arrivata Perché l'account era differente Ringrazio quindi Fabi Ma ringrazio appunto anche Alex Che mi ha dato la possibilità anche di capire Che qualcun altro me l'aveva detto Io sono mortificato ragazzi Se non l'ho notato subito Ma appunto adesso vi ringrazio Ve ne sono grato ragazzi Vi menzionerò appunto come Vi ho menzionato il video Come è giusto che sia Quindi se avete magari qualche altro video da vedere Taggatemi Scrivetemi su Instagram Che io comunque vi rispondo E appunto se ne ho la possibilità Come è stato in questa occasione Ci faccio il video Quindi mi raccomando ragazzuoli Fatelo E io vi ringrazio ancora Ringrazio tutti quelli che lo hanno fatto L'hype per MotoGP 24 È sempre più alto Sempre più alle stelle C'è qualcosa qua E signore e signori Non vedo l'ora di provare Questo nuovo gioco Vedremo Cose ragazzi di milestone Avranno tirato fuori per noi E io vi invito a iscrivervi al canale Proprio per scoprirlo Insieme a me Vi ringrazio appunto per la visione E vi do appunto a metodo in un prossimo video Ciao a tutti